Dichiarazioni? No. Charlie vai su Charlie! Ma l'avevi già rimarcata questa simplicità? Eh no è vero, se lo dico la prima volta e mi dimentico è vero. Bah e la senti da coda eh? Sto cercando solo di far riprendere la direzione ma va da dio. Abbastanza intuitivo. Vedi che Charlie è così? Mi piacerebbe sempre accentato anche sulla strofa, però leggero eh. Grazie a tutti!